i rigori in diretta non lo so ma non lascio ma la freddetta vediamo se in sé è buono un po' è meglio lui è proprio Patrizio vediamo Patrizia Patrizio che fa padre Pio per salvare la roba Patrizio se non vedo la roba vai Muregno già un foggio ha avuto il miracolo di Padre Pio vedete un foggio di Serebio pure oggi un foggio è una tarmonda storica che fa era eliminato stra-eliminato fa solo tu un foggio a pescare beh vediamo qua 50-50 minuti da parte iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale mi raccomando 20.000 iscriviti ragazzi iscrivetevi al canale su iscrizione al canale forza forza roma io dico della roma super murigna la roma super murigna la roma vieni su su una chitarra fai vedere siamo una famiglia di artigli su su questa è una famiglia di artisti questa è una famiglia di artisti state facendo qua noi anche durante le partite facciamo arte qua invece voi che fate le pizze vendite vendite i pizze vendite i pizze che avete da fare un forteggio qua un forteggio qua allora da qua si tira da qua si tira sotto la cuba del Siviglia quello ora che si pescano là spero che non si imbauresce ora fai che tira prima ora fai che tira prima venite qui perché si vede fuori tira chi tira non c'è neppure lui la tensione mazzi se ne io tu murigna devi spogliare tu e non c'è la fuoco e poi lo muovere ci manda all'allenare no no non morire e l'allenare tu non c'è la fuoco non c'è la fuoco e non c'è la fuoco e non c'è la fuoco e non c'è la fuoco si dice non vi muovere dalla linea mi raccomando altrimenti altrimenti si ripete tira il primo Siviglia tira il primo Siviglia questo è quello che ci ha fatto fare 3 a 2 sull'autore di Lukaku tre anni fa 3 a 2 3 a 2 alla finale e questo qua e questo qua io mi bandaggio 1 a 0 1 a 2 2 a 2 2 a 3 vieni qua poi devi fare una specie di pausa e devi venire da noi un'altra perché noi si perdono un po' sulla banda vediamo questo qua è un po' la terra un po' la terra proprio chi ne chiede mamma mia spiazza il bottiglia e questo proprio è un po' la parte un po' la terra e l'acqua è un po' l'esperienza oh madonna mia questo è cristante è già zucco mamma mia questo è un po' il gym ma non te ne vede mai speriamo che lo faccia bene se non metti troppo no destro destro questo è quello che ti ha detto che ti ha detto che ti ha detto che ti ha detto un po' il pezzo bravo che ti ha detto l'ha intuito però è tirato pure eh è passato sotto la mela questa è sinistra ma perché ha tirato fuori tirato fuori questo è il mancino però eh questo è il mancino però eh eh non è stato neanche forte per il po' la parte è attirato proprio e l'ha intuito in maniera una pelle davvero magari con i paurosi magari con i paurosi i paurosi chi è qui questo è quello non la metà mancini i mancini e può fare laterale il portiere è con i piedi è presto vediamo poi quello centrale centrale appigliere questo è un barcellone non può sbagliare questo non è possibile che questa squadra vengono la Coppa UE ma che cazzo sette Coppa UE vediamo questo più forte questo è un bel attirato all'angolo è tirato bene, è spiazzato ma c'è un bel attirato mancini i bagni con la gommus con la gommus con la gommus con la gommus fino a ora gli hanno tirato meglio quelli la perchè pure quello che ha tirato la Roma questo è questa è la faccia di Inzaghi questa è la faccia di Inzaghi ma è la mia la mia la mia l'ha tirato bene però però la chiedi una donna la mia la fine perdiamo pure perderemo anche noi la fine una mamma è l'iphone usa ha deviato ha deviato allora tu puoi pure sbagliare qui puoi sbagliare qui questo diventi fronte pira forte pira forte pira forte che è successo? ma parò parato 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 ma che è successo? apparato in un'altra regola apparuto ci 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 però ora l'ha da fare addirittura ora lo deve fare e poi deve sperare che potenza c'è guarda come puoi sapere qui ripetuto perchè? perchè si è mosso in avanti in avanti in avanti cazzo che culo culo che era buono morte vinto poi c'è un antiromanista date la coppa a voi diciamo che no diciamo che mi da fiducia a questa cosa nel senso che siccome è impossibile che il Siti vincesse 7 coppe come è impossibile che il Siti non la vince neanche questa volta è capito può essere però così ha detto secondo me no ma secondo me ha fatto la partita che doveva fare ha fatto la partita che doveva fare su quello purtroppo 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 sono 7 Europa Lega a vincere questa squadra vabbè comunque anche se non l'avessi si anche se non l'avessi fatto ripetere c'era ancora un'altra aveva sbagliato qui ormai era non ti spiace non la prende mai oppure se la devi la potete prendere ma se lo faccio ma come fai quanto ti riportano l'anno? vabbè cari romanisti mi dispiace ma che vuoi fare a me vedi ma la Fiorentina e poi vedi noi che cazzo facciamo potessi che l'Inter sia l'unico che non so un miracolo beh questo è un massimo che cazzo va a fare è un apporto di infine no vabbè ma se ne va a fare che cosa succede? ha fatto il ciclo suo l'anno scorso c'era Patrin c'era la conferenza e qui sta eh lo so questo è già un livello questo è il livello questo è il livello questo è il livello non so vabbè vediamo la Fiorentina che fu buonanotte